Ciao a tutti ragazzi, io sono Simo Dei Mapawe e questo è il primo video della categoria di One Piece Treasure Cruise One Piece Treasure Cruise è un videogioco nato per mobile e niente, siccome è da più di un anno che ci sto giocando, quindi i personaggi ben livellati, le skill molto alte eccetera mi è venuta voglia di cominciare questa serie spero di farvi venire quantomeno curiosità riguardo a questo gioco perché secondo me vale la pena quantomeno provarlo e niente, vi lascio questo breve video qui tenterò di sconfiggere un rogue nella modalità Chaos del Colosseo Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!